Tutto l'importo andrà in benedicenza per questo gioco Parliamo di Sake En Samurai la cui base d'asta è di un euro Lotto Lotto Vai tranquillo Numero Lotto Ah, scusami, certo Numero è l'otto, non è la vostra foto, no, 145 Sake En Samurai Ok, abbiamo detto, eccolo là, due euro a Bologna Poi? Cinque Perdoni? Cinque Cinque Che è? Eccolo qua Sì, si piazzate la macchina perché siete veramente tanti Dico dieci Quindi sei euro Nessuna H scusami Dimenticavo Assieme a questa scatola qui In omaggio Sempre per il discorso beneficenza Verrà dato Pathfinder nuovo incelofanato Vai Dicino Oh, dai Dieci Vai, 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 vai Pathfinder nuovo incelofanato No, 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 quello è il 20 Eccolo, ecco Quindi, dopo il 20 parliamo di 25 Ok, 28 Mentre ci riflettete giusto un attimo Quindi il Sake En Samurai è praticamente nuovo Quindi non incelofanato Il Pathfinder sì Parliamo di 28 euro che sono qui C'è la coppia fortissima Stasera lì vedo cavoli Mh Gacchio Ok E' più di più No, no, non mi vuole Oh, vettuto euro Attenzione che c'erano 30 30 30 30 Per 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 Make in Black 32 Eccolo Voglio un 35 Ragazzi Perché Allora, Pathfinder Sono un esperto Dai Ci piace Quindi questo qui Andrà via quegli ottimi 70 euro esattamente in queste condizioni Perciò Tutti questi soldini qui Andranno in benedicenza tutti Perciò 32 Ok Comincio a puntare Perché dobbiamo andare lì 32 E uno 32 E due 35 Eccola 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 Ma non piace Mi bastando la passata che si rileva a favore Mi dice tre E' più Inferno Anche tu che se la legge vorrà fare due a di notte Vai 35 Uno 35 E due 36 Ah Eccolo 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 Due 36 E 3 Aggiudicate Grazie